a casa tutti bene seconda stagione su sky che dire se avete dei problemi dei cruci dei motivi d'ansia qualcosa che vi disturba nel vostro quotidiano ecco diciamo che a casa tutti bene la consiglierei come potrei consigliarvi una buona terapia d'urto chiaramente prima la prima stagione quella seconda se non avete visto la prima perché i vostri problemi diventano bazzeccole rispetto ai problemi che hanno tutti i personaggi di questa interessante serie ideata da Muccino io non amo particolarmente Muccino come regista anche se credo che sia un grande professionista ma devo dire che questa serie convince e addirittura io mi spengo a dire che mi è piaciuta più la seconda stagione che la prima è sopra le righe violenza eccessiva in certe situazioni poco credibile anche come dinamiche in altre situazioni però avvince emoziona non commuove perché non c'è un solo personaggio positivo secondo me tra tutti quelli che affaiono in questa disgraziata famiglia di ristoratori romani ma però è scritta e lavorata veramente bene gli attori sono molto bravi ed è una spanna sopra tutte le produzioni che vedo che vedo che mi capita di intercettare nella nostra sgankerata programmazione rai ma anche in finitas invece in questo si vede che c'è una grande cura di particolari la potete trovare tutta adesso su sky